Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning, in questo nuovo video andremo a vedere insieme come sostituire gli interni della macchina, per interni intendo il cielo e i montanti. Mi è capitato veramente un affare, sono riuscito a trovare una mito quadrifoglio incidentata purtroppo e diciamo non ho approfittato e mi sono comprato tutta la tappezzeria nera tranne i sedili quindi il cielo e i sei montanti con tutte le plafoniere e le alette parasole. Purtroppo ci ho messo veramente tanto tra una cosa e l'altra, ho lasciato la macchina in carrozzeria per la vernice, ho avuto vari problemi di meccanica tagliando eccetera. Insomma ci ho messo veramente tanto, ho aspettato parecchio tempo prima di poter montare questi interni, pensavo fosse una cosa molto complicata invece è stata piuttosto semplice, l'operazione più difficile è stata sfilare il cielo da dentro la macchina a fuori e inserire quello nuovo sempre dal bagagliaio da fuori dentro la macchina. Però diciamo piano piano ci sono riuscito, purtroppo questa piccola parte non sono riuscito a filmarla perché purtroppo ero solo io e la mia ragazza che mi ha dato una mano e il cielo è veramente grande da solo non si fa, non ci si riesce a manovrarlo ecco quindi diciamo per cause di forza maggiore non sono riuscito a riprendere questo piccolo pezzo però diciamo è molto semplice bisogna piegarlo un pochino comunque ne parleremo più avanti. Quindi ragazzi mi raccomando lasciate un bel mi piace perché questo è un video bomba e ricordo se avete problemi commentatemi, iscrivetevi soprattutto al canale, alla mia pagina instagram Mitch Tuning e in descrizione potete trovare il link al mio gruppo di telegram accessibile a tutti. Quindi niente ragazzi iniziamo subito il video dopo la intro. Cominciamo subito con lo smontaggio del cielo vecchio, dobbiamo innanzitutto togliere tutto quello che blocca il cielo al tetto della macchina, quindi iniziamo dal retro e piano piano avanziamo. Ci togliamo questi due diciamo stoppini, non so come chiamarli, questi fermi con un tool apposito che io ho già da tempo, vi lascio il link in descrizione di questo attrezzo e di questi cappellotti in caso li rompeste, io fortunatamente non li ho rotti. E questo è il primo passaggio, poi andiamo avanti con la rimozione di questo tappino per gli abiti, appendi abiti, basta tirarlo verso di noi e ruotarlo. Praticamente è fatto a incastro, una sede rettangolare, poi andrà infilato e ruotato nel verso opposto per rifissarlo. Procediamo quindi con l'alette parasole, io vi consiglio di aprirle, poi operazione veramente semplice, cacciavite a stella, andiamo a rimuovere semplicemente due viti, una è del fermo dell'aletta e l'altro del proprio che tiene l'aletta parasole e ovviamente bisogna togliere la vite e spingerlo verso il centro della macchina, molto molto semplice. Successivamente iniziamo a rimuovere le plafoniere, ovviamente tutte queste operazioni vanno ripetute per due, quindi diciamo io vi faccio vedere solo il lato sinistro in questo caso e il lato destro poi andrà ripetuta la stessa cosa, rimuovere la plafoniera centrale diciamo è abbastanza semplice, basta spingerla e tirarla in basso, poi ci stanno dei capetti da rimuovere con un po' di pazienza, uno si mette lì e li toglie, soprattutto quello posto sulla sinistra che è veramente rognoso. Poi fatto queste cose che tengono il cielo iniziamo a smontare i montanti, iniziamo da quelli sempre del retro, ci sono semplicemente due viti che li tengono, vi faccio vedere quello di sinistra che è un po' più complesso in quanto ci sono la luce di cortesia, l'accendi sigari 12V per chi ce l'ha, se no c'è semplicemente un tappo che copre il foro nel montante e poi inoltre dietro andremo a trovare la centralina, la centralina che dovrebbe essere se non erro dei sensori di parcheggio. Quindi, tornando a noi, togliamo le due viti a stella, ci scansiamo un po' le guarnizioni, le guarnizioni della macchina andranno praticamente scansate un po' tutte, poi basta infilare la mano e sganciare il montante, ci sono un po' di gancetti molto facili da rimuovere. E come potete vedere, come vi dicevo prima, ci sta la centralina dei sensori del parcheggio, il cavetto del scendi sigari per chi ce l'ha e anche la luce di cortesia che ce l'hanno tutti. Anche la centralina dei sensori di parcheggio non credo ce l'abbiano tutti, è soltanto l'emito provviste con questo accessorio, con questo optional. Comunque, per rimuoverla ci sono altre due viti a stella proprio sotto il montante, è molto semplice sempre, basta svitarle e la centralina viene tranquillamente via. Fortunatamente questa operazione non va ripetuta sul montante di destra, lì è semplicemente, si tratta di svitare le due viti e sfilare il montante. Ma non è finita qui ragazzi, perché all'interno del montante comunque ci passa la cintura. Per rimuovere la cintura bisogna alzare la seduta e rimuovere questa vite Torx T50, è stato veramente un macello riuscire a trovare una Torx T50, sono dovuto andare a comprarla. Comunque si svita e si fa passare l'attacco della cinta dentro il montante. Passiamo quindi su quelli centrali, basta inserire sempre un tool sull'estremità per sganciarlo e poi semplicemente si sfila verso il basso. Anche qui troveremo la cinta e basterà rimuoverla dall'attacco posto sotto al sedile del guidatore. Praticamente ci sta un piccolo forellino dove infilare un calciavite piatto, basta spingere e si sfila l'attacco della cinta. Anche questa volta lo passeremo all'interno del montante ed il gioco è fatto. Come potete notare ho inserito già il cielo nero in quanto riuscire a fare le riprese, come ho detto all'inizio del video, è veramente complicato in due perché avevamo tutti e due le mani occupate. Una volta inserito e adagiato sul tetto io ho provveduto subito con il fissarlo in vari punti così da tenerlo fermo. Bisogna fare semplicemente tutte le operazioni che abbiamo fatto all'inizio soltanto partendo dalla fine. In questa maniera non ci sono stati veramente problemi, è stato molto semplice e banale rimontare il tutto. Non vi faccio vedere questo passaggio completamente perché bisogna eseguire proprio gli stessi identici passaggi dall'inizio alla fine però a ritroso, punto e basta, niente di complesso. Appunto la cosa più complicata è stata quella di rimuovere il cielo beige e poi inserire quello nero in quanto va leggermente piegato sui lati per farlo passare, altrimenti si possono spostare secondo me i sedili anteriori e farlo passare dalle portiere. Io non ci ho provato onestamente perché non avevo voglia di smontare i sedili. Quindi ragazzi questo è il risultato finale, è veramente assurdo quanto è bello questo tetto nero, questi interni neri, blafoniera nera, lette parasole nere, tutto il kit degli interni dell'Alfa Romeo mito quadrifoglio. Ovviamente potete spenderci di meno per fare questo upgrade, io ci ho speso 300€ compresa la spedizione e le spese di Paypal, quindi diciamo un prezzo abbastanza onesto. Inoltre devo dire che questi interni neri mi sono arrivati che erano praticamente nuovi ragazzi, erano soltanto sporchi, li ho puliti con deturner, vi lascio il link in descrizione di questo prodotto per interni, sono venuti veramente da Dio. Mancano soltanto le retine dei tweeter, ma poco mi importa perché avendo i tweeter di casse non originali comunque sono belli anche da vedere così. Ho cambiato anche le luci della blafoniera centrale, infatti fanno una luce assurda, sono di linea originale, montano su Giulietta, ma montano anche sulla Mito, vi lascio il link in descrizione anche di quelle. Vi lascio in descrizione il link di tutti gli attrezzi che ho utilizzato per fare questa sostituzione e quindi tutto il necessario che vi servirà. Il risultato come potete vedere è veramente assurdo e ho rimontato qualsiasi cosa. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, mi raccomando, seguitemi su Instagram e mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube. Per questo video è tutto, Mitch Tuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi. Grazie a tutti.